ciao a tutti ragazzi bentornati a storie di fumetteria oggi siamo con il signor bruno della fumetteria fumettolandia di udine grazie per aver accettato di partecipare grazie a voi e un saluto a tutti allora intanto io per esempio sono di roma quindi non vi conosco se qualcuno fosse magari della zona e oggi ho scoperto una fumetteria che qui è a dieci minuti da casa mia non l'ho mai vista quindi magari qualcuno che è di zona e magari purtroppo non vi ha mai incrociato quindi chi siete quando avete aperto un po di storia allora ho aperto nel 1993 quindi siamo prossimi ai 30 anni wow wow lo dico io per primo perché mi sembra di essere qui da pochissimo in realtà è passata una vita bello però chiaramente in questi 30 anni ho visto cambiare molte cose cambiare la situazione fumettistica anche se alla fine le cose sono più aggiunte che sostituite ma che anche di questo poi parleremo più avanti esatto e quindi voi avete cominciato subito come fumetteria direttamente nel 93 ok ok e e siete esattamente a udine in centro vicino in centro ok ok perfetto e come è cambiata secondo lei la cioè c'è questa questa crisi del fumetto o c'era pure nel 93 quando lei ha aperto la fumetteria cioè se ne parla da sempre ma poi allora crisi c'è sempre se ne è sempre parlato da quando ho cominciato a leggere fumetti c'è sempre stata crisi ma in realtà no semplicemente magari le cose piacerebbe che andassero sempre meglio di come vanno realmente ma nella natura degli italiani comunque lamentarsi sempre della situazione è vero diciamo che il fumetto un poco come il libro è un oggetto non facilmente sostituibile proprio per la sua natura che uno magari può anche leggere la stessa storia in rete ma fisicamente l'oggetto non ce l'hanno né la stessa cosa non c'è un contatto fisico è certo quindi sono quelle cose che la tecnologia non riesce ancora a sostituire si può avvenire prova esatto esatto affiancare prova si dire basta vedere i vari lettori di ebook che hanno avuto un momento di boom sembravano questa grande trovata grande novità ma alla fine la gente si è resa conto che pagava un po meno ma di fatto non aveva niente di fisico era un poco come noleggiare una videocassetta come nei tempi andati e vabbè il film lo vedi però di di fatto non non ce l'hai se ti piace non non hai l'oggetto è vero è vero no poi io sono per sono del settanta quindi sono sono per per gli oggetti fisici assolutamente è vero che uno ce l'ha comprato nel suo account dello store ma potrebbe fallire lo store potrebbe potrei non avere più io magari il lettore per per leggerlo non non secondo me il fumetto fisico è insostituibile la tecnologia cambia molto rapidamente quindi quello che si vede adesso non è detto che da qui a qualche anno sia ancora valido non si è sostituito da qualcos'altro un oggetto fisico non lo spiega niente i libri sono da centinaia di anni ci sono e non sono sostituiti da niente esatto poi lei mi potrà capire io solo il profumo del del fumetto quando lo apro o penso a lei ormai sarà abituato dopo trent'anni ma quando entra in negozio c'è questo odore di carta di 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 editoria ancora una bella emozione esatto è insostituibile ehm leo è già in scopo si entra nel discorso del collezionismo che è tutto un'altra cosa chiaramente uno non colleziona file esatto esatto non c'è paragone al di là delle variant o di collezionismo di di che adesso c'è un'invasione di variant di varia natura e di varia per di prezzo beh non è una novità c'era già negli anni 90 quando facevano due tre copertine la versione dedicola la versione da libreria non è niente di nuovo è una cosa che ragionando non da venditore ma da collezionista trovo un po sgradevole perché si costringe una persona per completezza a comprare due tre versioni della stessa cosa non è molto bello non è molto rispettoso della del lettore del collezionista però è una pratica certo non nuova è certo sì soprattutto poi quando magari la variante costa 200 euro ed è in edizione limitatissima ed è impossibile da trovare e già sta mille euro su ebay sono quelle cose che tendo a non incentivare nel mio negozio anch'io anch'io io pure dico sempre per fortuna esiste la versione base e quindi uno per leggere il fumetto che poi è il senso di questo insomma è il senso per cui sono nati quando l'hai aperto c'era già c'erano già i manga ovviamente non era il fenomeno che oggi allora i manga in italia ci sono a partire dai primissimi anni 90 con zero della granata press e qualche piccola apparizione su altre altre testate che se ne interessavano c'era su eureka se ne parlava già ma la prima uscita regolare e del 90 quindi c'era già da qualche anno ne uscivano pochi quella volta erano cavaliere lo zodiaco che nel guerriero poche altre cose sono considerate classici c'erano ma il vero boom c'è stato poi con la pubblicazione di dragomo che sapevano di andare a segno con quello hanno introdotto il senso di lettura asiatico all'orientale e la gente pian piano si è abituata però che che se ne possa dire non è che questo ha completamente spiazzato tutto il resto della produzione è un qualcosa che si è affiancato ha avuto un momento di grande successo per cui un po per la novità un po per il supporto dell'animazione che è una cosa che ha funzionato sempre da quando io ero bambino è certo comunque ha avuto un momento di grande boom adesso la cosa si è un po stabilizzata quindi sono premiati prodotti di qualità non è che a prescindere arriva dal giappone o dalla corea e allora è bellissimo per forza adesso le persone sono un po più attente e viene premiato un prodotto che effettivamente vale ok e quanto incidono i manga e in questo momento invece nell'organizzazione del suo negozio allora non è proprio tanto un discorso di quantità di vendite quanto di quantità di uscite esatto perché posizione loro e poiché capita spesso che si comprano i diritti a pacchetti per avere un manga di grande successo si hanno uscito anche tante serie che magari sono un po meno degne di nota esatto in tale si pubblica tutto ci sono delle uscite che occupano comunque i scaffali ma se ne vengono una due copie contro le decine delle serie principali certo quindi se io dovessi andare a vedere come volume di acquisti sicuramente hanno una parte preponderante anche se nel mio negozio cerco di avere tutto quindi da collezionismo dagli anni 30 in poi cerco di avere un buon assortimento non di basarmi solamente sui giapponesi comunque dicevo se dovessi andare a vedere il volume sicuramente sarebbero preponderanti non è detto che come dati di vendita sia sempre così perché vengono ancora molte cose italiane o francesi franco belga americane e questo pensa che sia anche un buon merito suo no io penso nel senso che nella sua libreria ci sia questa varietà beh ha insistito e ha creduto nel nel resto del fumetto cioè non ha detto oddio c'è la maniera dei manga levo tutto e metto sullo manga invece intelligentemente è appunto perché io sono prima di tutto lettore e collezionista e vendere sarebbe come un salmier che vende solo salame perché tanto la gente chiede salame vabbè ma non non è quello che mi piacerebbe fare a me piace il fumetto nella sua interezza e cerco di avere un ottimo assorbimento quello che mi piacerebbe trovare se entrassi da cliente certo certo no e sì però purtroppo non tutti lo fanno molti si buttano su quello che tira in quel momento purtroppo poi trasformando il negozio trasformandola però non c'è dietro probabilmente una persona che ha questa passione e questa e questa passione anche da collezionista questa è la differenza diciamo che io fin da bambino ho sempre letto molto e quindi conosco anche tante cose sono anche in grado di consigliare di parlarne un po di tutti gli argomenti inerenti al fumetto o alle cose direttamente collegate adesso ci sono tanti negozi magari aperti da persone molto molto giovani che non hanno non voglio parlare di competenza non hanno interesse andare a cercare qualcosa di un passato che non gli appartiene beh però per completezza secondo me andrebbe fatto nel senso che se tu cominci è come se io domani avresti un negozio di dischi e avessi solo trap e avessi solo musica e magari uno entra e non trova non lo so i super tramp i baby jeez i beatles e non lo so i gruppi classici vin floyd quindi uno si fa anche un salto indietro sicuramente sì se uno ha la passione di farlo esatto e la professionalità diciamocelo ma io non voglio parlare di professionalità perché mi sembrerebbe di sminuire chi non fa così è un diverso modo di intendere le cose magari uno dati alla mano dice di questo ne vendo uno di questi so di venderne dieci ma chi me lo fa fare tengo solo quelli che vengono dieci sì 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 è una strategia poi dice il negozio è suo cioè nel senso è del proprietario quindi ognuno se lo gestisce e lo 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 attrezza come come preferisce e quindi diceva che voi avete anche la parte collezionismo quindi uno volendo può trovare anche con la mancolista e venire magari a cercare quello che gli manca eh sì è la cosa più bella di un negozio così che uno è un poco come andare come una volta era andare per fiere con con i fogliettini con le mancoliste mai aggiornate per quanto mi riguarda ne avrò fatte a decine di mancoliste poi non trovo mai quello che mi serviva soprattutto mai portate dietro esatto anch'io sempre mai erano sempre a casa quando andavo in fiera e quindi ecco esatto o mi ero dimenticato la mancolista che mi serviva o una che in quel momento non vabbè comunque anche questa era divertente è certo assolutamente no bellissimo questa cosa perché anche questa è una cosa che ho riscontrato ehm non tutte le fumetterie poi ci hanno una parte di eh di di fumetti storici per per poi andare a recuperare cose di di anni fa insomma quindi le fumetterie che lo fanno secondo me è un plus in più anche perché se uno viene da voi ha la tranquillità perché in fiera è una bolgia tra tra sgomita corri lo prendo io lo prendi tu cerca invece da voi ha tutta la tranquillità di mettersi lì e di cercare quello che che cerca insomma sì e soprattutto sa da chi ha comprato un qualcosa quindi se c'è qualcosa che non va torna e dice scusa eh ma qui manca una pagina qui è successo questo mi è capitato di avere non dico brutte sorprese perché io quando acquisto qualcosa per me controllo ma di vedere qualcuno che faccia un po il furbetto ah ecco perfetto beh sì se c'è la fiducia nel che riponi nel posto in cui ti servi ovviamente c'è un c'è un plus in più che non che non è da poco insomma è il momento è il motivo per cui sono un po resti a comprare anche cose in rete per me perché una cosa io devo vederle toccarle sono dell'idea che quando uno compra un fumetto o un libro qualunque altro oggetto di interesse personale si fa un regalo è certo certo quindi deve scegliere magari che ha aspettato per anni esatto deve sceglierlo deve vederlo deve essere suo deve uscire contento soddisfatto finalmente l'ho trovato esatto mentre è molto più freddo asettico andare digitare to ecco ok bo arriverà vedremo com'è è vero ma voi vendete anche online cioè fate anche un servizio se qualcuno magari su ebay allora non ho uno store online perché sono molto poco tecnologico ok però se mi capita che c'è gente che mi contatta da altre città dicendo ma sto cercando disperatamente questo ce l'hai si ce l'ho ci accordiamo ti faccio tutte le foto che vuoi e se va bene te lo spedisco ok perfetto anche questo è un sistema certo che magari se magari qualcuno cerca qualcosa che avete voi e lo può ve lo può richiedere insomma quindi questa sì 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 perché no io stesso a volte ho contattato altri negozi per qualcosa che mancava nelle mie collezioni è certo certo ci si ci si aiuta anche perché no tra collezionisti appassionati ha riscontrato nell'ultimo periodo magari delle difficoltà maggiori della distribuzione perché magari i corrieri non distribuiscono solo i fumetti ma stanno cominciando a distribuire di tutto e quindi magari la distribuzione sta arrancando un po proprio il corriere che vi porta i fumetti ma parliamo fisicamente del ragazzo col furgoncino sì sì ma allora in passato c'è stato qualche di servizio ma ultimamente mi trovo abbastanza bene col corriere attuale cioè il ragazzo che fa le consegne che mi conosce sa che io ho necessità di avere le cose entro la mattinata e quindi si organizza il giro in modo da farmele avere magari quando non c'è lui è sostituito da qualcuno qualche piccolo di servizio c'è perché si organizza il giro diversamente però non posso proprio lamentarmi ecco diciamo che si è raggiunto una buona stabilità a buono buono è perché sentivo anche molte fumetterie che con l'aumento del commercio online anche in altri campi e poi il corriere se una volta consegnava 60 pacchi in una giornata adesso arriva a 120 e molto spesso ha delle difficoltà proprio a chiudere il giro e quindi magari è qualcuno sta riscontrando problemi beh udine non è non è una città grande credo che in una città più grande ci possa essere più problemi magari verranno anche più persone che consegnano però credo che ci sia un'altra mole di spedizioni ma lei riesce a fare a far conoscere altri per esempio non lo so il ragazzino che entra e perché i compagnieri di conoscenza il manga e quindi entra a comprare quel manga poi accettano il consiglio e lei riesce a fargli dire che ne so hai provato questo conosci questo allora con parti chiusi no 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 non sono proprio comparti chiusi anzi capita molto spesso che uno arriva in negozio perché parlando con gli amici o su social network che hanno parlato di una cosa e poi pian piano col tempo scopre che c'è tanto altro io non non mi piace essere invadente nel senso di andare consigliare o hai visto questo bellissimo come puoi non averlo compra 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 non non mi piace farlo se mi chiedono un consiglio sicuramente anzi diciamo che lo faccio abitualmente perché ci sono persone che vengono devo fare il regalo di compleanno alla persona allora cerco di capire questa persona che gusti può avere cosa può aver già letto che libri che film gli piacciono in modo da ricollegarmi ma di andare a influenzare le persone non lo faccio tanto perché quando non avevo un negozio prima quando ero un cliente entrava in un negozio se la persona veniva lì vicino dire posso aiutare ha scelto ha visto questo ha visto quello lo trovo fastidioso cerco di di imparare la lezione e quello l'odio anche io ecco quello l'odio anche io però magari qualcuno viene in cassa con un fumetto e magari mentre uno gli fa lo scritto con il conto magari viene quella cosa da collezionista da appassionato che dice ah però guardi che si ha letto questo secondo me potrebbe piacere anche un altro autore magari senza consigliare un fumetto in mi capita ma più che altro con clienti abituali cioè con persone che vengono da me da sempre io ho clienti che so già a che ora verranno e che giorno magari passano un pomeriggio lì a chiacchierare una mattinata a chiacchierare e se so che qualcosa potrebbe piacergli e non la conoscono magari glielo segnalo dico guarda c'è questo dai un'occhiata ti potrebbe piacere questo sì sicuramente ma rientra nel nelle normali chiacchierate tra tra amici perché no perché quando una persona viene in negozio da 30 anni ormai fa parte della quotidianità anzi ho amici che sono dorate di meno esatto è vero è vero no ma poi c'è quel rapporto tra collezionisti tra appassionati che è un legame molto forte anche perché io trovo tanta gente avendo un canale youtube che magari segue il mio canale o segue o partecipa alle mie live perché dice io che ne so colleziono giocattoli colleziono fumetti ma non ho amici con i quali condividere questa passione perché dei miei amici nessuno questo capita anche qui ci sono tante persone che magari hanno modo di conoscersi poi si danno appuntamento si trovano per si capita anzi ci sono famiglie che sono nate così negozi ho visto clienti arrivare qui da ragazzini conoscersi frequentarsi e adesso arrivano magari con i figli che mi fa pesare un attimino il tempo passato perché finché uno vive alla giornata vede sempre le stesse persone è un poco come fermare il tempo è vero quando una persona ti arriva con un figlio grande dicendo sai pensavo di fargli ereditare l'abbonamento da te non si rende conto che il tempo è passato porca miseria lo so io ho lavorato undici anni adesso in un negozio e quando vedi il bambino che entrava piccolino e poi entrava magari alto così mi diceva salve ciao ciao non mai riconosciuto e no perché era un po di anni che non venivo ma io sono quello appero cioè più alto di me e lì uno si rende conto effettivamente che capita per fortuna tanti magari leggono meno ma passano ancora volentieri a trovarmi capita anche persone che avevo proprio perso di vista o si sono trasferite passano per udine vengono e ti ricordi di me io venivo qui questo vuol dire però che lei ha fatto un grandissimo lavoro nel corso degli anni perché perché si è riuscito a stabilire un'empatia un rapporto col cliente che va oltre la vendita dell'oggetto se no uno non passerebbe a trovarla ma diciamo che lo dico da uno che ha lavorato a contatto col pubblico per 30 anni insomma diciamo che cerco di rapportarmi sempre più da appassionato che da commerciante io prima di tutto sono un collezionista quindi quando ho a che fare con un cliente per me è un collezionista come me anche quando devo stabilire il prezzo della copia rarissima esaurita eccetera insomma cerco sempre di ragionare se dovessi comprarlo per me quanto sarei contento di pagarlo o quanto andrei via dicendo buh però mi ha impelato sono diciamo un po' sui generis come commerciante no beh perché vivo in entrambi i ruoli cerca di non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a lei diciamo cerchiamo cerco di far trovare l'altra persona come se io fossi al posto suo esatto cerco di medesimarmi nel collezionista che entra in un negozio di fumetti perché vuole leggere qualcosa o cerca un numero da tempo e finalmente lo trova insomma sono calcoli che si fanno quando si è anche collezionista eh sì e infatti secondo me il cliente percepisce che non c'è solo il commerciante di fronte ma c'è uno di loro uno appassionato come loro quindi ecco perché poi il discorso voi fate anche eh firma copie eventi così con con i disegnatori in negozio vi capita allora in passato l'ho fatto molto spesso soprattutto all'inizio perché c'era un magari più un maggior interesse verso la produzione italiana era un momento in cui c'erano tanti autori conosciuti anche più ho cominciato a dire a dare la cosa quando mi veniva che sono un disegnatore della Bonelli e gli chiedevano di fare un disegno manga allora mi sono reso conto che l'interesse almeno di tanti ragazzini si è un po' spostato su altre cose ok penso che sia fastidioso per uno che magari disegna nathan never a rinnovare mi disegni Goku di Dragon Ball non non penso sia stato una bella esperienza perché non non c'è la percezione di chi hai davanti cioè dovresti venire perché sei contento perché c'hai davanti eh quel determinato disegnatore se gli chiedi un'altra cosa vuol dire che non hai capito proprio chi hai davanti e quindi non c'è neanche l'emozione di avere un di avere il rapporto no anzi fa sentire al disegnatore che non non interessa quello che fa lui ma interessa qualcos'altro esatto esatto sì questa cosa un po' capita purtroppo ogni tanto sì è vero e un'ultima curiosità era comunque ne faccio tuttora solamente dire dato anzi più mirate proprio adesso in dicembre verrà stavolta un autore di di libri a incontrare un po' i suoi lettori a firmare qualche copia poiché sono libri su fantasy horror che possono diciamo interessare lo stesso bacino di utenza perché sono cose che possono andare di passo me l'ha proposto e ho detto ma sì perché no e questo è estremamente vario può sconfinare nelle nei libri nei film del resto gran parte della produzione fumettistica deriva dai famosi racconti popolari i penny dreadful where tales almeno per quanto riguarda la produzione americana quindi ci sono tanti collegamenti certo certo e con con chi è l'incontro e quando se lo vuole dire magari qualcuno poi vedrà il video allora con un autore che sta pubblicando per la dark abyss ok grande la croix ok e quando è in dicembre ma dobbiamo ancora stabilire il giorno ok ma avete un sito web avete per per magari qualcuno che magari non riesce a venire presto e una pagina facebook o un allora c'è una pagina facebook ma poiché io sono notoriamente a social network ok devo vedere se se mi ricorderò le passo di accesso per aggiornarlo ah ok perfetto no più canto perché magari c'è qualcuno che magari non è magari verrebbe apposta per l'incontro perché magari a qualche chilometro da udine e magari pubblicizzandolo beh ma vedrò di appena avrò una data sicura vedrò di far sapere la cosa in tutti i modi possibili e certo certo no anche perché sono momenti anche di aggregazione e di fidelizzazione del del pubblico alla 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 fumetteria e ecco che me l'ho dimenticato l'ultima ma oggi il free comic book day voi avete aderito sì lo faccio ogni anni ok eh ma è migliorata un po' la situazione perché io quando anni fa parlai con le fumetterie e mi dicevano sì ma è quasi tutto a carico nostro il costo è un po' così e in realtà sì un poco come per l'anteprima che hanno fatto un allegro aumento da un euro un euro e mezzo ma alle fumetterie è dato a sconto zero quindi è tutto a carico nostro questo momento il comic book sì anche il free comic diciamo che è una cosa che pesa un po' ma si fa volentieri bello bella questa cosa bella questa cosa anche perché proprio io sono andato prima in una fumetteria qui a prenderli quelli che sono usciti oggi e un altro ragazzo mi ha scritto in privato e mi ha detto ah sono andato in una fumetteria ehm ne ho presi due che mi interessavano mentre stavo uscendo il proprietario me l'ha strappati di mano ma ha detto che se non avessi comprato non me li avrebbe dati gli ho detto beh guarda tu dovevi intanto esatto infatti intanto gli dovevi fare una scenata che non finiva più davanti a tutti gli dovevi spiegare che cos'è il free comic book day e che è scorretto quello che sta facendo e poi dove informare secondo me la panina la distribuzione di che cosa stanno facendo insomma è assolutamente esatto esatto anche perché quel quell'esercente non ha capito che lo scopo è un investimento nel senso che tu vieni magari prendi io sono stato io oggi ho scoperto la fumetteria dove sono stato oggi non la conoscevo e qui dietro a casa mia non la conoscevo è stato gentilissimo tra l'altro c'è stato un problema con il poste devo tornare a prendere un volume che volevo e non ci non siamo riusciti a chiudere me l'ha messo da parte però io non la conoscevo lui è stato gentilissimo mi ha preparato la busta prima che io glielo dicessi eccetera eccetera io da domani se devo comprare una cosa vado da lui vado da lui questo è il lo scopo del free comic book day e quindi niente allora il discorso è se si vuole avere un'attenzione verso la clientela non deve essere subordinata a un acquisto per forza sono albetti gratuiti se la cosa pesa uno semplicemente non aderisce esatto esatto io tranquillamente anzi quando mi dicono posso prendere ma anche uno per tipo anche più di uno perché di no ma ci sono anche le persone che in voi gli sembra chiedere perché li pagano certo ma no gli esercenti di costa questa cosa e quindi dicono vabbè io l'ho pagata senza capire che è come se è come se lei avesse come se una fumetteria avesse pagato non lo so costa 10 euro è come se avesse investito 10 euro con due manifesti pubblicitari quello è lo scopo capito è vero che che a carico della fumetteria ma se aderisci lo devi vedere come se avessi messo due manifesti in centro e ti costano e allora lì è detto chiaramente che gli albetti sono da dare gratuitamente senza se senza ma non subordinati né al fatto che uno sia un cliente fedele che viene sempre qui no per me se passa una persona mai vista mai sentita prima e li chiede li prende sono lì apposta certo se questo disturba semplicemente uno non aderisce esatto perché non è obbligatorio quindi basta non è obbligatorio esatto se lo fai fai un'attenzione che può esserci un ritorno una delle cose pubblicate può piacere a qualcuno che non l'avrebbe comprato così lo conosce te lo ordina ma non è questa la finalità è una cortesia una carineria verso il pubblico esatto e magari qualcuno che si sposta e cerca una fumetteria che ripeto magari non la conosceva e diventa un cliente perché è stato trattato bene insomma ma io non avevo dubbi insomma abbiamo parlato solo mezz'ora ma si capisce esattamente che c'è un appassionato dietro e che quindi c'è un approccio totalmente differente nei confronti dei clienti io sono un po' lontano quindi sarà difficile magari che riesca a passare a trovarvi ma se passerò da da udine non non mancherò di venirvi a trovare perché insomma è stato molto piacevole e devo dire che poi mano a mano che lei girava è anche molto bello il locale e quindi che si intravedeva alle spalle cercavo un'angolazione e no no però è stato bello perché tra l'altro c'è un assortimento enorme e quindi vale la pena proprio già così mi invoglia a visitarlo ma io sono sono a roma sono un po lontano insomma quindi io intanto le ringrazio le faccio il miglior in bocca al lupo per questo dicembre che insomma è sempre un momento in cui i commercianti puntano molto perché è un mese in cui appunto non so se anche nei fumetteri ma credo di sì insomma si dovrebbe guadagnare di più beh in questo dicembre in particolare vedo che le persone fanno molta fatica sono più quelli che cercano di venire a vendere qualcosa per farsi la settimana bianca di quelli che cercano di cose da comprare però per fortuna il mio vicino di utenti che hanno abbonamenti da me quindi poi è anche presto è quello che dicevo infatti ormai non c'è più la cosa di comprare molto prima si è spostata un po più verso il natale la corsa agli acquisti quindi sicuramente da qualche anno ci sono le persone che vengono all'ultimissimo momento perché non sanno cosa prendere che chiedono aiuto esatto esatto e quindi va bene insomma quindi comunque le faccio in bocca al lupo e anche per poi il prossimo anno che saranno 30 anni quindi sarà un anno anche emozionalmente particolare insomma quindi intanto sono pronto per i prossimi 30 questo è lo spirito perché sennò uno non farebbe questo lavoro insomma quindi intanto grazie un lavoro che deve piacere sicuramente e ci vuole passione sì assolutamente per farlo passione per farlo fondamentale è vero grazie mille grazie a voi grazie a voi